Il K1 Fight Code all'angolo rosso-mirdo della Rappoi Brixia contro all'angolo blu la razza del Team Colombo arbitra a tempo il signor Ivano Chempini si preparano per l'incontro numero 5 Forte e Pavoni e per il numero 6 Ricca e Ciligati Grazie a tutti Grazie a tutti Non potrà quindi esserci un verdetto di parità in caso di parità si andrà in extra round Si tratta di K1 Fight Code tre round da tre minuti il signor Armino Ivano Chempini mostra agli attrezzi al musico la cintura in bagno Vi ricordiamo che questi due agente di base A sono all'angolo rosso-mirdo della Rappoi Brixia contro all'angolo blu la razza del Team Colombo si preparano per l'incontro numero 5 Forte e Pavoni e per il numero 6 Ricca e Ciligati ma adesso ci apprestiamo ad assistere all'incontro di K1 Fight Code tra Mirto e Lavazza e la Rappoi Brixia e la Rappoi Brixia è la prima ripresa dell'incontro Mirto e Lavazza Ricordiamo a tutti gli atleti che alla fine di ogni incontro è possibile fare l'intervista un bruno internazionale a rigresso e la Rappoi Brixia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.